Un anno e otto mesi per un'ecografia urgente e importante con priorità indicata dal medico di base. Il signor Antonio, nome a tutela della sua privacy, ha 81 anni e di fronte a questa richiesta del proprio dottore ha provato a prenotare un'ecografia in data 21 gennaio 2022. Ecco com'è andata. Passati i 90 giorni non ho sentito niente. Attendo, maggio, giugno, ripetutamente richieste, ripetuti solleciti. Giovedì scorso, 4 agosto, telefono di nuovo, mi dice sì la stiamo chiamando. Per quando dico? Per settembre. Settembre? Beh, prossimo, dico una quindicina di giorni. No, no, dice settembre, 15 settembre 2023, alle ore 8 e 15. Anche io ho detto ma mi state prendendo in giro. Per il 2023 potrei essere anche morto perché ho 81 anni. Una situazione che il signor Antonio giudica così. E' una presa in giro perché ho telefonato in giro nei vari centri medici, nel giro di 8 giorni avevo il servizio subito a pagamento però. Il che con tutti i soldi che oltre a averli versati quando si lavorava, adesso che sono in pensione, continuano a mungere, trovo che sia una presa in giro, non per me ma per tutta la popolazione dell'Ulcio 7. Disagi e disorganizzazione, racconta il signor Antonio, che oramai sono diventati un coro di lamentele da parte dei cittadini e non solo. Sicuramente sì, sicuramente sì e sento anche le lamentele del personale che lavora all'Ulcio 7, che purtroppo si sentono sottovalutati e trattati e bistrattati. Alla luce della sua esperienza, ecco come risponde alla domanda se la situazione nell'Ulcio 7, secondo lui, sia peggiorata nell'ultimo anno. E' centoplicamente peggiorata, sia sotto tutti i punti di servizio, non per il personale che lavora, ma penso, per quello che posso dire io, delle persone della dirigenza. Come sempre i nostri microfoni restano a disposizione di tutti.